Bella B! Bella G! E oggi per le nostre best and worst vi riproponiamo... Come ti vesti tu l'ultimo giro di una gara? Beh ma vogliamo dirlo che io avevo la mutanda rossa da ultimo giro con una tigre Fortunato avevi visto i mutande giocare però Eh sì, regalato a un primo dell'anno e poi per caso messo in un giorno in cui non avevo preparato la borsa Non mi ricordo, io sono molto metodico, forse quella è anche un'altra mia scramanzia Sempre preparato tutto in anticipo, avevo sempre la borsa già fatta, il cambio già deciso e tutto il resto Non ricordo bene che gara fosse ma una giovanile di due giorni Il secondo giorno non avevo preparato niente, ho tirato su questa mutanda e ho vinto Forse è una delle mie prime gare giovanili, quindi ci avrò avuto 14 anni Siccome ogni cosa può essere vista come una best o una worst Fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate Mettete un bel pollicione in su e ci sta!